Oltretto in coppia, versione salsa, la glicerateria, questa sera, per un po' ci sarà una nuova semissione, della Zuppa Test Fitness, con la maestra Diana, ci sono ancora i buoni, in palio per chi volesse anche improvvisare, va bene questa sera, i buoni per la pizza, o i buoni per la coppa gelato, vuoi più tardi o metteremo un pochino il ritmo, ecco, invece questa sarebbe una cosa romantica, da ballare in coppia e potersi aggiudicare una buonissima coppa di gelato, le ragazze di Zuppa Test Fitness, questa sera la glicerateria, Poi la serata proseguirà, abbiamo già i primi fans dalla mia sinistra, con il genere del latino Zuppa Fitness questo è il bonus di questa sera, abbiamo il bonus, Zuppa tua da Spirit Fitness, Zuppa! Zuppa il niespike il mondo Zuppa il suo ero ztuo Zuppa il suo ero Zuppa il suo è un be' Zopaka Anche il improvvisando è bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti